Ciao a tutti da Diego di Tecnophone.it Questo è un video registrato con lo smartphone CAT S62 Pro Uno smartphone nato per essere utilizzato in ambiente lavorativo Perché è resistente praticamente a qualsiasi cosa Però comunque ha una fotocamera che è in grado anche di registrare video in 4K E questa è una dimostrazione La fotocamera devo dire che si comporta bene in condizioni di luce ottimale Purtroppo la registrazione video non ha nessun tipo di stabilizzazione Quindi si vede un pochino di tremolio della mano Però devo dire che nel complesso la qualità della ripresa è più che sufficiente Soprattutto considerato che questo non è in assoluto il punto di forza dello smartphone Perché comunque lo smartphone ha anche un'altra fotocamera Ma è quella termica e quella però ne approfondiremo durante la recensione Che vi consiglio poi di guardare Quindi questo era un video registrato in 4K con lo smartphone CAT S62 Pro Ciao da Diego